Quando mi hai portato qui ho fatto una promessa. Una vita per Tobias e per me senza violenza, senza pipa. Lavoravo nella polizia, ma me ne sono andata. Manuela, è stata trovata morta. Samantha Sonsa. Trovata morta blocciata in mezzo alle montagne. Tutto indica che è stato un incidente. Quello che dice la polizia non mi basta, loro non importa. Ho davvero bisogno del tuo aiuto. Ha rubato una collana di valore dalla villa in cui stava lavorando. E dove stava lavorando? Alla festa dei Carreras. Che cosa è successo alla festa? Niente, non è successo niente. Non occorre coinvolgere mio figlio. Anche tu sei madre, non è vero? E se non fossi un alabe? Perché lo chiedi? Sei qualcosa? Che cosa dicono gli invitati? Avete interrogato i Carreras? Non intrometterti in affari che non ti riguardano. Hai capito? Tuo fratello doveva essere qui. Cos'è successo? Non posso essere sempre presente. Samantha è stata ammazzata. Credo ti stia soffermando su una parte del problema. Sono anni che ci governano. Si arricchiscono grazie alla nostra terra. Abbiamo la possibilità di riprendercela. Guarda avanti. Questa è la tua città, è la tua terra. Perché hai detto che non sei andato alla vera? Signorina, si intromette senza sapere. A volte nel nostro lavoro dobbiamo fare cose che non ci piacciono per scoprire la verità. Emanuela Pelari può chiamarmi Pippa.